Sari comunque nervoso anche ieri in conferenza stampa ha parlato addirittura testualmente di pericolo di un campionato falsato appunto per le assenze di tre suoi giocatori per gli impegni con le varie nazionali. Io qua però agli allenatori direi non rivolgetevi ai giornalisti o alla Lega Calcio o a quello che volete ma rivolgetevi ai vostri presidenti perché la Lega di Serie B così come la Lega di Serie A prende certe decisioni. Lo abbiamo detto in presentazione, questa di non rinviare le partite è stata una decisione della Lega di B presa dai presidenti. Io sorrido anche quando sento quelli che si lamentano per i troppi anticipi, posticipi per gli impegni però sono i presidenti che hanno in pratica in mano le sorti della calcio che vendono gli spazi televisivi e quindi sono proteste assolutamente inutili. Soprattutto non deve essere rivolta così alla gente oppure alla stampa ma bisogna andare dal presidente e dire presidente perché ha accettato una situazione simile. Siccome l'hanno accettata tutti la regola è questa e Sarri quindi deve farsene una ragione se la farà negli spogliatoi perché nel secondo tempo non rientrerà in quanto è stato espulso per proteste.